Buonasera, ringrazio il professore Tronti di aver avuto concedere questa intervista che è stata organizzata dal Centro di Psicoanalisi Romano e gli farò alcune domande inerenti al tema della modernità e dell'operaismo. Devo dire che lo stimolo a questa intervista è venuto dopo aver letto nel settembre di quest'anno un'intervista da lui rilasciata da Antonio Ignoli sulla Repubblica, un'intervista che mi è sembrata estremamente interessante per una serie di questioni che tenterò di riprendere qui, sia di ordine generale sui bilanci della politica o dell'impegno politico di circa 40 anni fa, ma anche per alcune questioni che riguardano le opzioni filosofiche, che riguardano, se vogliamo, anche la scientificità delle teorie. Quindi in questo senso mi sembrava utile riprendere dei punti di quell'intervista e rilanciarli e avere un colloquio diretto con lui. Appunto, allora, tanto per dare un inquadramento perlomeno storico, volevo che leggermente potesse spiegare alle persone del video cosa è significato questa cultura dell'operaismo negli anni Sessanta, quale tipo di personaggi intellettuali in fondo l'hanno, se vogliamo, l'hanno motivata, l'hanno portata avanti, e quale tipo poi di conseguenze si pensava potessero avere sulle organizzazioni operaie e politiche di allora. Lei non era solo, c'erano altre persone, quindi sarebbe interessante che lei in modo breve ci facesse un quadro di quella che era la storia di queste persone, di quel momento. Ma l'operaismo è stata una breve stagione, molto intensa, che va da 1960 a tutta la prima metà degli anni Sessanta, anche un po' oltre, poi continua con varie vicende, però io anche recentemente ho ristretto molto la fase dell'esperienza, perché l'ho messa proprio tra il 1960 e il 1966 e ho detto, insomma, sono due riviste che l'hanno caratterizzata, perché quello era un periodo in cui le riviste erano il modo con cui l'intellettualità, soprattutto l'intellettualità politica, quella più impegnata, si esprimeva, combatteva, interveniva. Quaderni Rossi? Quaderni Rossi era stata la prima di queste riviste e lì ruotava intorno a una personalità eccezionale che io ho avuto la fortuna di incontrare alla fine degli anni Cinquanta e che era Raniero Panzieri. e lui è un po' l'iniziatore di questa esperienza, perché era un personaggio anomalo, era un politico socialista, del partito socialista, che poi aveva rotto con il partito perché era molto più a sinistra della linea del PSI di allora, quindi abbandonò poi la politica attiva, si trasferì a Torino dove venne preso al lavoro da Inaudi, come redattore di Inaudi, e lì mise insieme proprio a Torino, non a caso a Torino, era una città al cuore del mondo operaio italiano, lì è sempre stato, vi sei su un gruppo di giovani ricercatori, in gran parte di formazione e di scuola sociologica e alcuni insomma c'era un personaggio molto interessante che era Romano Alquati, un altro era Vittorio Risare, tutti scomparsi più o meno recentemente, però insieme a quello lui siccome frequentava poi anche Roma incontrò questo gruppo romano, non so la casualità dell'incontro adesso non è nemmeno tanto importante, questo gruppo romano, insomma io c'era a Sorrosa, c'era Umberto Coltageli che poi sarà uno storico, c'era Rita di Leo, poi ci sarà Aris a Cornero, questo gruppo romano era meno di impronta sociologica, più di impronta per quanto mi riguarda filosofica, per quanto riguarda Sorrosa letteraria, quindi ci fu questa bella fusione tra questo gruppo teoriinese di sociologi e questo gruppo romano, diciamo, noi eravamo più sul versante del Partito Comunista rispetto al PSI e questo incontro diede vita a questa rivista che si chiamava Coderni Rossi che era una rivista annuale, ne uscirono alcuni numeri dal 61 al 65 e lì si cominciarono a fare alcune analisi di fabbrica, ecco quella sociologia lì era una sociologia non tradizionale perché era una sociologia che puntava all'analisi del processo di produzione capitalistico, quindi riconosceva la centralità della fabbrica, molti erano di Torino ma molti altri di Milano e della cintura milanese, insomma molti venivano da Genova, lì allora c'era il famoso triangolo industriale, Torino, Milano, Genova, a cui noi aggiungemo un quarto polo che sarà poi Porto Marghera dove poi venne, da lì poi venne Toni Negri Cacciari e Relinco di momento tra di voi, Massimo Cacciari? Massimo Cacciari che era più giovane venne dopo, subito dopo perché non partecipò ai Coderni Rossi, partecipò invece a quell'altra rivista, la seconda rivista dell'Operaismo che nacque nel 1964 e che venne fuori da una certa frattura all'interno dei Coderni Rossi perché a un certo punto proprio questo gruppo romano però insieme al gruppo milanese a quello Veneto eccetera ci fu insomma alcuni problemi di interpretazione diversa della fase rispetto a Pansieri, Pansieri voleva continuare una ricerca più di carattere diciamo di lungo periodo come erano i Coderni Rossi che era una rivista annuale ne usciva uno l'anno ma quindi era una bella, tra l'altro c'era una bella grafica che Pansieri curava molto, molto bene però da una costola dei Coderni Rossi nasce quella rivista classe operaia che invece era un mensile ed era, aveva come sottotuti, era un mensile degli operai in lotta perché la differenza che si procurò si produsse in quel periodo è che noi secondo me e secondo altri bisognava passare più direttamente all'intervento, più che dall'analisi all'intervento. Chi leggeva queste riviste? Chi leggeva Coderni Rossi era per un gruppo intellettuali? C'era Pansieri che era un po' il punto di centrale poi c'era una redazione in cui c'erano tutti questi nomi. Ma il pubblico era una rivista per intellettuali? Beh sì. E classe operaia pura o tentò di una divulgazione? Beh insomma c'era una diversità perché mentre Coderni Rossi era una rivista che si rivolgeva soprattutto a un ceto intellettuale anche di sinistra l'ambizione di classe operaia è di superare questo e di andare diretto. Infatti noi portavamo questo giornale davanti alle fabbriche facevamo accanto al giornale. Una militanza sociale. Una militanza diretta diciamo con grandi difficoltà perché intanto il sindacato vedeva questa cosa in modo molto critico anzi a volte con una posizione anche forte perché in fondo non era mai capitato che degli intellettuali andassero a parlare direttamente agli operai allora il filtro del sindacato il filtro del partito non è come oggi che era molto forte no? Non si poteva arrivare in fabbrica senza passare attraverso queste mediazioni. Il fatto che noi saltavamo questo creava un po' infatti insomma anche davanti alle fabbriche non era tutto così pacifico diciamo così. Poi facevamo dei volantini che noi intervenivamo nelle lotte no? Cioè quando c'erano le lotte soprattutto dei metallomeccanici e delle metallomeccanici chimici tessili era un po' questo il fronte diciamo operaio più avanzato ma portavamo lì indicavamo obiettivi di lotta più più forte insomma ci fu prima tra quaderni rossi e classe operaio ci furono i famosi fatti di piazza statuto no? Quando Torino durante uno sciopero lungo prolungato operaio eccetera per il contratto nazionale e soprattutto ci fu l'assalto a Torino alla sede della UIL no? Con scontri anche violenti eccetera lì fommo accusati noi di essere i fomentatori di questa in realtà no c'era una rabbia operaia che andava per conto suo noi troviamo lì. Questo in che anno era piazza statuto? In che anno è stato piazza statuto? Credo nel 62 nel 62 è stato il 62 è stato l'anno di massima intensità delle lotte operazioni. Nel 60 ci sono state anche le altre attività di piazza credo che a Palermo è stato ucciso un operaio nel 60 erano stati dei movimenti diciamo sporadici ma... Sì sì la cosa lì era ma sai quella quella cosa lì insomma noi eravamo degli interpreti di una fase non c'è che dicevi e cioè qual era il contesto di queste cose? Beh il contesto era molto molto forte molto preciso molto specifico perché tra la fine degli anni 50 e inizi degli anni 60 secondo me secondo noi allora era avvenuta qualche cosa che in Italia non era mai avvenuto cioè lì c'è stato veramente il passaggio dell'Italia a paese capitalistico avanzato perché fin lì era considerato ed era di fatto un paese a capitalismo arretrato no? Di impronta contadina. Invece ci fu quel boom della industrializzazione soprattutto nel nord con il passaggio dal sud al nord di centinaia di migliaia i contadini che si rubavano e diventavano operai e lì nasce insomma quel paese che poi abbiamo conosciuto dopo secondo me lì nasce veramente per la prima volta in Italia che è un capitalismo vero no? Perché fin lì insomma c'era stata l'italietta no? Che fino a molto a molti degli anni 50 eravamo ancora quel paese lì insomma un po' fuori ai margini della modernizzazione. Lì cominciò la grande modernizzazione poi lì ci illudeva un po' noi perché pensavamo che questo fosse un fatto permanente che qui dell'Italia fosse ormai arrivata a questo livello insomma di paese avanzato. Allora sì questo quadro di contesto è molto interessante ed è pieno di elementi anche che forse sono utili per la nostra comprensione oggi dell'Italia ma ci interessava anche capire qual è stato poi l'esito sul piano organizzativo politico di queste vostre analisi di questo vostro movimento spontaneo cioè quale diavolo ha avuto con le organizzazioni politiche o con l'organizzazione autonome separante dai partiti e dai sindacati? Sì l'esito è stato insomma un po' contraddittorio no? Perché quell'impresa lì fu fortunata in questo senso che ha preceduto che cosa? ha preceduto il 68 e c'è stato tra il 66 e il 68 così come dire il movimento un po' dormito no? e sembrava estinto nel 66 esce Operaia e Capitale che è questo libro in cui raccoglieva alcune cose appunto dei quaderni rossi di classe operaia e poi aggiungeva un lungo osaggio marxiano eccetera eccetera la sorpresa fu che nel 68 quella cosa che sembrava estinta perché poi anche il ciclo delle lotte operaie si era esaurito fin lì anche se poi riprenderà alla grande nel 69 nell'auturno caldo eccetera però accade che il 68 riscoprì questa cosa e la portò alla pubblica opinione diciamo così nel 68 era stato questo grande megafono studentesco eccetera tutto accadeva e tutto veniva visto comincia lì lo spettacolo al fondo anche della politica questa parola è interessante spettacolo è interessante una parola sì e lì queste cose per esempio Operaia Capitale che era esaurito dai naudi e non esisteva veniva ciclostilato allora c'erano i famosi ciclostili no? e girava ciclostilato nelle università nelle scuole eccetera eccetera per cui io ricordo sempre l'ho sempre insomma richiamata alla mente di una volta di quei grandi cortei che si facevano degli studenti dei giovani degli studenti nel 68 vi ricordo sempre proprio in via del corso allora si diceva potere no? potere agli studenti potere ai giovani a un certo punto mi ricordo che a mia sorpresa venne fuori un grido che diceva potere operaio potere operaio no? e io dissi ma per la miseria abbiamo sfondato no? su questa questa cosa perché era una evidentemente lo suono è nuovo era stato seminato qualche cosa che rinasceva in un'altra in un'altra forma infatti poi questo operaismo che secondo me si conclude lì si conclude praticamente con Operaia Capitale perché poi come lei ha ben visto io insomma prendo altre strade però ha una continuità non solo dopo il 68 il 69 lo riporta sulla scena alla grande perché fu la grande sfallata operaia dove per la prima volta salario e profitto si misurarono alla pari no? e il salario arrivò a erodere il profitto questa è la grandezza dell'autunno caldo del 69 però da lì nacquero una serie di gruppi che saranno lotta continua per esempio e uno potere operaio che si richiamavano direttamente per l'esperienza operaio con i loro giornali autori e tutti i gruppi ristretti io lì seguì una strada diversa perché fui io a un certo punto nel 67 a dire io ero il direttore di classe operaia quindi era un po' il punto di riferimento fui io a dire beh adesso chiudiamo e chiudiamo perché? perché mi ero accorto di questo che molti di questi giovani tra l'altro bravissimi io ho sempre detto non ho trovato persone più interessate di quelle che se ne incontrai allora poi nella politica perché erano giovani veramente straordinari tra l'altro colti ma poi disinteressati credevano in quello che facevano però erano tutti orientati in un senso quello che poi diventeranno i gruppi estremisti io che ero di formazione comunista perché io ho sempre raccontato che prima di diventare operaista io sono stato comunista anche la sua famiglia dove eravamo venivo dal PC quindi venivo da una scuola diversa ho sempre concepito l'esperienza operaia come qualche cosa che stava dentro il movimento operaio dentro le organizzazioni del movimento operaio non fuori, non contro c'era quello mio slogan che diceva dentro e contro dentro il PC e contro il gruppo dirigente dentro il sindacato e contro i sindacalisti eccetera però dentro i gruppi che cosa facevano fuori uscivano e si contrapponevano a questo e poi avevano questa mentalità di gruppo io mi accorsi che questi giovani tendevano a diventare a essere settari l'operaismo secondo me non doveva sfociare nell'estremismo perché io sapevo bene che cosa era l'estremismo cioè l'isolamento di piccoli gruppi che fanno che poi in sé fanno piccole chiese no? infatti questi gruppi poi hanno avuto uno strano sviluppo no? perché il potere operaio cominciò a fare una parte era pubblica una parte era clandestina quindi cominciarono a fare le cose insomma insieme poi si cominciavano ad armare poi si cominciavano poi coltivavano la violenza io lì mi sono fermato dico no qui non si arriva a questo lotta continua lo stesso no? cioè c'è un rapporto molti di quei gruppi molti alcuni ma non pochi sono stati sono passati poi al terrorismo degli anni settanta purtroppo insomma io li ho sempre guardati insomma con molta diffidenza perché non si deve mai arrivare a quella appunto perché venivo da un'altra scuola poi c'è stato anche un fatto interessante che molti di quei gruppi anche lì ho visto che nella domanda c'è questa consapevolità molti arrivarono a questo estremismo non solo parolaio ma anche violento altri dopo l'esperienza di gruppo si riaggregarono dentro l'establishment dentro le classi dirigenti se nel mondo del giornalismo della televisione si trovano tutti ma ex lotta continua ex potere operaio no? però stanno tutti lì ben sistemati no? si fu questa cosa strana questa doppia via no? che seguirono in gruppi ma secondo me era proprio l'idea di gruppo no? che non doveva io ho sempre pensato che l'organizzazione deve essere una grande organizzazione no? cioè deve essere una forza di massa non può essere di quattro persone che si riuniscono clandestinamente nelle cantine per provocare poi cose che non devono essere provocate eccetera quindi in questo modo insomma un esito politico quindi dell'operaismo fu questo c'è un altro esito che invece io sottolineo molto ed è la invece lo sviluppo di quelle persone che avevamo citato all'inizio no? il gruppo dirigente intellettuale il gruppo Lidi che dall'operaismo ha considerato l'operaismo con un periodo di formazione anche politica ma anche intellettuale no? e appunto lì la personalità di Cacciari per esempio risalta in modo evidente perché Cacciari nel tempo di classe operaia era militante di classe operaia a Porto Marghera faceva anche lui il volantinaggio davanti alle fabbriche e così via ad un rosa qui a Rova andava presso gli edili no? a fare le cose però poi queste singole personalità presero insomma diventarono sono diventati quelli tra i più importanti intellettuali italiani no? è un gruppo che è arrivato ancora molto coeso perché insomma tra questo gruppo è nata un'amicizia con Massimo Cacciari che chiamavamo sempre un'amicizia stellare che dura tutt'ora no? dura tutt'ora noi continuiamo a vederci continuiamo a stare insieme a pranzare insieme a passare giornate insieme ognuno avendo dato poi un contributo alla cultura italiana di notevole livello perché lì c'era per esempio uno come Ari Saccornero Ari Saccornero è un personaggio molto interessante perché era un operaio della RIV poi fu licenziato per licenziamento politico dalla RIV e passò all'Unità all'Unità cominciò a scrivere sugli operai e ha continuato a fare opere che ha una bibliografia enorme fino a diventare fino a diventare professore ordinario di sociologia industriale alla Sapienza cioè questo è un percorso straordinario ecco lo cito sempre come esemplare perché l'operaismo ha portato un operaio della RIV a diventare insomma professore di sociologia industriale lo stesso Rita Di Leo che poi ha cominciato a studiare altre cose l'Unione Sovietica eccetera quindi c'è questa doppia dal punto di vista dell'esito generale non ci fu granché no perché l'operaismo è rimasto anche oggi se ne parla però è rimasto sempre dal punto di vista ufficiale dalla politica ufficiale molto marginale il PC non lo prese mai né improprio lo emarginò il sindacato lo ha tenuto sempre da parte quindi come influenza diciamo sulle vicende politiche nazionali è stata minima è stata forte no su questo ceto no intermedio di militanza politica di militanza politico intellettuale no che poi non si è ripetuta più 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 Grazie a tutti.